Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Una notizia che ha colpito tutti. Marcello Lazzerini, storico inviato Rai, è morto all'età di onta 6 anni a causa di un malore improvviso. Con una carriera lunga oltre 40 anni, Lazzerini ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo. Iniziando la sua carriera presso l'unità, Lazzerini è diventato noto per il suo lavoro come inviato per lo sport e la cultura del Tg della Toscana, oltre che come conduttore di diversi programmi di successo. Ha lavorato in programmi come Tutto il calcio minuto per minuto con Enrico Ameri e Sandro Ciotti, 90 minuto con Paolo Valenti e Maurizio Barenson e Domenica Sportiva. Appassionato tifoso della Fiorentina, Lazzerini ha vinto il premio Bancarella Sport nel 1993 con il libro La leggenda di Bartali. Ha lasciato dietro di sé numerosi libri, tra cui Azzurri miei diletti, Omaggio a Giorgio Lapira, Per rabbia e per amore, e Correndo correndo con Antonello Venditti, Fra calcio e musica. La sua ultima opera, intitolata Bartali la grande storia, è stata presentata lo scorso maggio. Lazzerini lascia il figlio Luca, anche egli cronista, che ha ricevuto le condoglianze da parte di tutti i principali organi di stampa e televisione. La scomparsa di Marcello Lazzerini ha lasciato un vuoto nel mondo del giornalismo italiano, ricordato per la sua passione.